La comune passione per la musica è stato probabilmente il segreto del grande successo che ha riscosso la manifestazione Storia della Musica. Impiegati, operai, pensionati e liberi professionisti si sono riuniti dopo tanti anni esibendosi sabato e domenica scorsi al Palagiglia di Contrada Pioppo a promuovere la manifestazione per il secondo anno consecutivo l'Accademia Palladium in collaborazione con la cooperativa Il Sestante. L'impianto sportivo ha fatto da cassa armonica le note alle voci di molti artisti che hanno deliziato il numeroso pubblico presente. Vastissimo il repertorio musicale proposto, la prima serata magistralmente condotta dal duo Miriam Di Rosa e Salvatore Fazio è stata dedicata alla musica italiana. Sul palco le band che negli anni 60, 70 e 80 sono state protagoniste dello scenario musicale della provincia di Agrigento. Il trascorrere del tempo però sembra non avere intaccato la passione per la musica di quei gruppi di giovani che suonavano ai matrimoni e provavano nei magazzini. Erano gli anni dei Beatles e dei Rolling Stone ed il loro piccolo, anche a Favara, le band di capelloni riscuotevano i loro successi. È il caso degli Evasi, dei Ciclo 22 o delle Onde, gruppi quest'ultimi presenti sabato. Durante le due serate a Marcord un doveroso tributo è stato rivolto anche a molti artisti scomparsi. Particolarmente credito dal pubblico è stato l'omaggio delle maestre di canto Deborah Randazzo, Denise Lombardo, Lia Minio e Claudia Rizzo che per la prima volta in assoluto si sono esibite insieme dando vita ad un quartetto di tutto rispetto. Insegnanti che sono salite sul palco poche ore dopo i loro allievi che al Palagiglia hanno animato la prima parte della serata aspettando Storia della Musica. Ieri sera invece spazio alla musica rock e blues. Soddisfatto delle due serate si è detto Pino Minio ideatore della manifestazione e direttore dell'Accademia Palladium. Nel rinnovare l'appuntamento al prossimo anno Minio si augura che Storia della Musica possa ritornare nella sua location naturale ovvero la piazza Cavour di Favara. Storia della Musica anche il secondo anno non ha staccato eccezionale, sono stati tre concerti veramente meravigliosi uno nato dai giovani talenti di Favara proprio i Junior che saranno la storia della musica di domani la seconda serata è stata bellissima con i gruppi che hanno cantato sono venuti anche dal Belgio da un po' dalle parti dell'Italia sono state due serate meravigliose veramente un fiume di applausi da tutto il pubblico quindi con la terza serata quella di Rock e Blues dove ha visto questi protagonisti e tutti questi grandi chitarristi rock come Guy Bennici e tanti altri Salvatore Sciara, Sciacca scusate c'è stata una serata veramente eccezionale eccezionale e che sicuramente ripeteremo il prossimo anno spero che sarà una situazione organizzata molto a monde per evitare questo affanno finale ma i concerti sono andati benissimo e che sicuramente lo ripeteremo per il prossimo anno e poi c'è anche da dire che Storia della Musica arriva in questo palazzetto dopo i Poo esatto, esatto questo è stato anche un orgoglio per noi dopo aver spostato dalla piazza che ovviamente è la vetrina di questa manifestazione nasce proprio per la piazza e abbiamo dovuto cambiare scena abbiamo cambiato scena dove? al palazzetto dello Sport di Favara che è un bellissimo palazzetto e che ci ha onorato di questo che è elegantissimo un posto elegantissimo e che è stato veramente due concerti veramente eccezionali grazie a tutti